Awa vomba curazza, vaticcia, vama damu... ...na vama damu tamuri. Awa vomba avasà, vassà di me, tavarimi. So io ci puro un po' turite da ma' ministra. Ok ma' ministra lei mi ha cucupoco. Te godito te ne dico. No andan aritemena mochete. Gawapundati ministra. Namun glateon ministra wapunati airisifu. Emei airisifu. Ministra ibi. Tavarima. Oka d'oresta so. Adige. Aham. Paraguama step by step, tefefina. Apa, step by step. So d'oresta so. ... ... Come qua rio di te, non mi diffuso di personaggi. Ok, l'ho fatto così, non dico, non mi fai fatto. Quindi io sto inolendo, uno lo stesso schifo all'ambulso, si mi fai cercato, non lo stesso per fare! E non mi fai cercato, non lo stesso per fare! Comorbere, si stai inolendo. A me �ù punta? A me �ù punta? A me �ù punta? A te em嘛! Come.. So Maschini A me �ù punta? Ok! wow Level Holger wireless Libile E.R.Sonstituto E.R.S.O no apache te pesicolo a 7 vato te ne rico ehi vato te ne rico non va ehi sire sì ne 1960 vato te ne rico vato te ne rico i so i so wow uco uco a ha ehi aha a bucani dice e la fina pagati e la una tampa aha e bucani e finito che mi dureva con te lascio ehi buco ehi e mi dureva con te lascio aha a bucani dice ehi a bucani dice ehi ehi aha ehi a bucani dice ehi 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 a bucani dice ehi 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 ehi